Buongiorno a tutti! Buongiorno, good morning Milano. Basta, e qua finiamo perché stamattina siamo tutti un po' stanchi. Siamo stanchi. È vero. E voi invece? E voi che ci stanno ascoltando invece? Martedì 3 ottobre 705. Buongiorno a tutti. 331 78 53 555. Oggi fate voi autogestione da chi ci ascolta. Noi vi mandiamo in onda e schiacciamo il pulsantino dalle canzoni e basta. Oggi facciamo così. Oggi è strano. Di martedì. Sotto è lunedì il giorno difficile. Invece oggi è... Non lo so. Non c'è da dare la colpa al tempo. Oggi va così. Oggi va così. Dopo guardiamo anche le pressioni del tempo magari. Invece è quello. La plassa pressione, l'alta pressione, Caronte, l'alzoto, lì come si chiama? Ma no. Il buco. Il buco nello zoto volevo dire. Non l'azoto. Va bene. Buongiorno. Come vi capite questa mattina sarà molto in salita per tutti quanti. Anche per voi lo sappiamo spesso la mattinata è in salita ma cercheremo di darvi una mano. Agli età. Sì, agli età. Saremo i vostri picchetti in cui potervi usare per arrampicarvi in questa salita mattutina che tutti i giorni appunto fate per andare a scuola. Un poeta. Un poeta. Sì, ma perché ho appena letto una cosa stranissima su Ungaretti. Che fece un... Come si chiama quello con le spade? Un duello con un altro poeta per vedere in questione di un articolo su un giornale. Vabbè dopo ho letto questa cosa. Un po' di poesia. E infatti sentite cosa arriva. E a proposito di poesia Disco Paradise. Non c'è molto collegamento. Ci vediamo qui. Ma se vuoi te la leggo con la storia che dicevo poco fa della sfida tra... Per l'ho trovata. L'ho vista per caso oggi. Pensavo fosse un fake. Invece no. È vera. 1926. Ungaretti sfida Massimo Bontempelli. Perché c'è di mezzo una disputa su alcune maledicenze letterarie. Intorno a delle robe che avevano scritto. E quindi si decise di risolvere la disputa con un duello alla spada, all'arma bianca. Però nel 1926 non era legale farlo. O meglio, era tollerato. Ma bisognava farlo diciamo fuori d'occhi indiscretti. Allora chi arriva? Arriva Pirandello che dice venite nel mio giardino. Quindi nel giardino di casa di Pirandello nel 1926, nell'agosto del 1926, Ungaretti e Montempelli fanno questo... questo duello. Si chiama al primo sangue, non all'ultimo. Cioè appena qualcuno dei due veniva... Quindi un po' quello soft. Sì, diciamo la versione soft. Appena uno dei due appunto venisse toccato dentro la spada e uscisse il sangue, tac, si ferma. Vince Montempelli per la cronaca anche. Cioè si sa anche chi ha vinto il duello. Perché Ungaretti viene ferito al braccio. Poi però viene medicato e alla fine fanno la pace. Si bevono tutti una bella birra nel giardino di Montempelli. Si dice, ma adesso devo capire bene, che ci fosse anche d'annunzio presente alla disputa, insomma, in questo giardino di menti eccelse. Che però comunque alla fine, così eccelse erano che alla fine hanno andato a prendere una spada. Come cambiano i tempi? Come cambiano i tempi? Uno dei quattro che ha citato diciamo che la violenza non ha mai... Anzi, gli piaceva anche forse. Ma vabbè, diciamo che invece del dissing all'epoca si usava la spada. Purtroppo secondo me si usa anche adesso. Ah, dice, ormai in certi quartieri. Non la spada però. Si fosse in certi quartieri effettivamente. Comunque, 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 7 e 11 minuti ben ritrovati qui su Good Morning Milano o in diretta FM da Plus e tutto il resto anche su Cristal Radio e Cristal Radio.it e Milano News e Milano News.it. E fin qua ci siamo. Bravissimi. Abbiamo i giornali, l'informazione locale aperti sul Buon Computer, del Buon Masieri e quindi... Oggi puntata ricca, eh? Mi ci ficco, quindi puntata ricca e mi ci ficca. Cosa c'è? Tantissime, tantissime nuove notizie. Partiamo da... dalla prima, va bene, se ne parla già da... cioè da quando è uscita la notizia se ne parla ininterrottamente Milano perché Franco Gabriele è il nuovo delegato alla sicurezza di sala che è stato annunciato ieri. Specificando, non è un giudizio negativo verso Granelli. Cosa vuol dire? Granelli è l'attuale assessore alla sicurezza. Il fatto che, eh, diciamo, venga nominato un nuovo delegato di sala alla sicurezza ha fatto subito un attimo alzare le orecchie, diciamo. E invece no, perché si andrà a creare un tavolo, eh, a quale sarà seduto anche, saranno seduti i due assessori competenti, ossia Marco Granelli per la sicurezza, Lamberto Bertole per i welfare, a parte appunto Franco Gabrielli e lo stesso sindaco. Eh, questo per affrontare chiaramente il problema sicurezza che, eh, alcune volte nelle televisioni nazionali mi capita di vedere molto, eh, molto facile da cavalcare, ecco, però, strade, eccetera. È un tema, è un tema infatti così molto molto semplice da cavalcare, invece un tema altrettanto importante per tutti voi che ci state ascoltando è la viabilità. Viabilità in questo momento nella nostra città che ovviamente ci viene data dalla redazione di Luce Verde in diretta qui, su Castelradio. Sette, diciassette minuti, Mastroianni sotto tono, vedi, mi ha parlato di Ungaretti, di... Continua l'arte. Continua, diciamo, l'arte, un po' la poesia italiana, questi personaggi un po'... d'altri tempi, Mastroianni è un uomo d'altri tempi, se ci pensi. Adesso questi personaggi, secondo me, avrebbero molte difficoltà a calarsi, a calarsi soprattutto nel contesto attuale, artistico e dello spettacolo, e in più si no ad emergere, secondo me. Secondo me, invece, ascoltando qualche intervista, eccetera, non tanto guardando i film, perché vabbè, chiaramente che quei film diventati cult, però si sente che sono di un'altra epoca, mentre ci giravano delle interviste con, magari, di dialogo tra lui e Sofia Loren, molto molto... In realtà erano più attuali, come persone c'erano, c'erano, anzi, attuali, ma forse, effettivamente, erano i film che facevano, che forse sarebbero difficili... Eh, quello sì, quello sì. ...di difficile comprensione ora. Torniamo sulla notizia, allora, diciamo, parliamo di sicurezza. La notizia di giornata, in realtà, molte notizie di giornata, ma questa è sicuramente la più importante, è Franco Gabrielli, nuovo delegato di sala, alla sicurezza e non solo, sicurezza e alla coesione sociale, è questo il, diciamo, il titolo. Ok. Si sottolinea, appunto, che non è un giudizio negativo su Granelli, anzi, ci sarà un tavolo, perché, appunto, Franco Gabrielli non andrà a sostituire i due assessori competenti, ma si aggiungerà al tavolo con Granelli, sicurezza e Bertolet al welfare, insieme chiaramente al sindaco, non prenderà un euro per il suo nuovo ruolo. Ah, va bene, mi piace che devono sottolineare questa cosa adesso. Va bene, noi lo diciamo. Viva il volontariato, va bene. Ex capo della polizia e sottosegretario all'interno del governo, Draghi. Draghi, sì. Sala ha rivendicato durante la presentazione che non esiste un problema di sicurezza a Milano, ma... Ma è meglio mettere uno in più per gestire la cosa. Esatto, ma questo non vuol dire che non si debba agire. Come dire, non è che devo rimbiancare casa, però già che ci siamo, da meno è rimbiancata. E Gabrielli dice che Milano è una realtà del paese in cui è possibile percorrere strade nuove, porre la coesione sociale, eccetera, eccetera, qui non siamo a Gotham City. Però, beh, iniziamo bene con la citazione di Batman, siamo a posto, va bene, la memoria di Batman mi riporta il famoso figlio da Moratti, che è la storia di Batman, il Batman. Ah, sì, è vero. Milano, Batman non ha portato fortuna a nessuno, quindi direi che forse, caro Gabrielli, citiamo altri supereroi, anzi magari non citiamo i supereroi, non pensiamo di fare supereroi, ma pensiamo di fare quello che serve. Vabbè, vedremo, quindi diciamo che sarà un coordinamento in più sulla sicurezza, in due assessori, poi c'è questo terzo... Terzo che arriva un po' come, cioè, parliamoci chiaro, dove arriva il tecnico, la politica ha fallito, inutile. Infatti, infatti. Io la penso così. Non lo so, ma anche questa cosa che la sicurezza e la questione sociale, sì, sono, diciamo, da calcolare insieme, spesso e viventi, ma forse non in questa maniera, ma vai, oh, abbiamo votato, avete votato... Ma vedremo, allora... Quando mi candidero io, decidero io come fare le cose, adesso giustamente alzo le mani da questo punto di vista. Il fatto che quando si chiama un tecnico e fa il metodo politica, sì, ma ciò non vuol dire che non faccia bene. Anzi, può sicuramente far bene, sono il primo che ha a cuore, il fatto della sicurezza mi dà fastidio che sia solamente una roba di partito, come dico sempre. È questo il problema, il problema è questo, bravissimo. Sicurezza è super... cioè, non ha colore. Non ha colore, non ha parte. Ahimè, invece, il dialogo intorno alla politica, spesso, intorno alla sicurezza, spesso l'entieri invece prende connotazioni... Ho avuto a vedere dei servizi fatti da alcune televisioni sulla sicurezza a Milano, sono veramente vergognosi. Vergognosi, sì, sì. Che questo non vuol dire che non esista un tema sicurezza, ma il tema sicurezza va gestito anche dal punto di vista comunicativo. Va gestito e va raccontato anche bene. Esatto, va raccontato bene. Va raccontato bene. E allora, non siamo ancora alla guerriglia urbana, per fortuna, a Milano, però qualcuno la cantava nel Rage Against the Machine con Guerrilla Radio. Guerrilla Radio, Guerrilla Radio. 7 e 24 minuti. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Quante volte l'ho ballata Rolling Stone, questa canzone pazzesca, vabbè. Rolling Stone, che molti di voi sanno cos'è, ma molti di voi non sanno cosa sia. Cosa sia stato, soprattutto. Io so che cos'è. Ebbè, è stato un grande locale di Milano. Io l'ho vissuto proprio sul finire della sua vita. Insomma, grandissimo, grandissimo. Anzi, per ballare questa musica, questa andava alla Rainbow, che era in Forza Armata. In via Forza Armata c'era questo Rainbow. Ci ho lasciato un paio di occhiali, perché a fuori di pogare si sono scassati. Sai quanto... Ah, ok, pensavo li avessi persi. No, 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 proprio tu. Perché esistono moltissimi profili su TikTok. Sì. Che ti fanno vedere cosa rimane nelle discoteche quando se ne vanno via tutti. Ah, sì. Poi bisogna vedere cosa è vero. Ma le cose più improbabili. Sì. Vabbè, occhiali, chissà quanti. Che poi anche gli occhiali. Però magari occhiali da lettura. Perché occhiali da vista te le accorgi che vai via senza vedere. Sì, no, ma più che... No, beh, occhiali da sole. Occhiali da sole, chissà quanti. Che poi tra l'altro vai a discutere con i occhiali da sole. Vabbè, perché fa molto vasco così, no? A proposito, andate su Netflix a vedere il nuovo documentario. Se ce l'avete. Se ce l'avete, andate a vedere. Sennò venite qui, dai, facciamo una visione collettiva. Facciamo una visione, non credo sia illegale. Un forum. Un cineforum. Un cineforum. Te l'hai visto? Lo sto vedendo, sì, lo sto vedendo. Beh, fatto molto bene, fatto molto bene. C'è molta fiction dentro, ovviamente. Però lui è un personaggio che, insomma, è capace di stare davanti a telecamera. C'è poco da fare. Racconta, racconta molto bene. E' bello anche vedere, appunto, cioè, comunque, è divertente vedere, come dice, sono un sopravvissuto. Ma non è che si pinta proprio di tanto di quello che ha fatto nella sua vita. Quindi ogni tanto ci sono un po' delle uscite che ti lasciano un po'. Quando parli dell'anfetamina, ad esempio, insomma, è un po' così. Però non voglio spoilerare niente. Guardatelo, è molto interessante. Devi dire qualcosa di nuovo, però, perché se sei un fan di Vasco, e parlo da fan di Vasco... Se sei un fan di Vasco, credo che, forse, alcune cose sì, effettivamente già le sai, come dire. Già le sai, sì, sì, sì. Se sei un fan di Vasco e ti sei informato, eccetera, eccetera, alla fine ti rendi conto che, dopo un po', tutti i libri, tutte le serie, tutti i film, tutte le varie cose, dicono più o meno le stesse cose. Ecco, se dà qualcosa di diverso, se aggiunge qualcosa in più, sono veramente contento. E poi ricordo che ieri Vasco ha annunciato le date del tour. Quattro date a San Siro. Quattro date a San Siro, una a Bari, ma attenzione, perché tra Bari, tra San Siro e Bari ci sono una quindicina di giorni, quindi sicuramente non sono solamente qua. Vabbè, non so. Ma c'è anche i 70 anni, magari gli stavano anche per ripigliarsi un attimo. No, 15 giorni no. Se usa il vecchio metodo, diceva che ci metteva una... Ecco, racconta come faceva, per esempio, per fare queste cose qua. Recentemente, in una radio, Vasco ha detto, letteralmente, ho visto la cosa di Elton John, che ha detto i miei 10 anni con la droga, ho detto che sono 10 anni. Ma ti viene bene per Vasco, bravo, bravo, Renzo. Bravo, bravo, ma si sa che fa l'imitazione di Vasco Rossi. Eh, sei forte, sei forte, sei forte, sei forte, sei forte, sei forte, ma così. Va bene, allora dai, adesso andiamo in pausa. Dai, dai. Piccola pausa. Pausa della mezz'ora. Piccola pausa. Pubblicità. Beh, che eccitazione, dai. Ma quanto sembra che fa la radio? Ma quanto? Black Eyed Peas, guarantee, guarantee, una delle ultime del Black Eyed Peas qui su Crystal Radio, alle 7.36 minuti, ben rientrati dalla pausa della mezz'ora, quindi la prima mezz'ora ce la siamo già levata un po', ma adesso andiamo avanti con la prossima ora e mezza e vi tocca ascoltarci anche per la prossima ora e mezza, ma soprattutto, e per giustificare la nostra presenta qui le notizie locali, di informazione locale, news, varie testate giornalistiche locali e non. Iniziamo subito con una di quelle brutte notizie che però ci tocca purtroppo spesso dare, è morto il 61enne che nel pomeriggio di sabato era stato travolto da una moto dopo essere sceso dall'autobus in Viale Jenner in piazza Costantino Nigra, tra Bovisa e appunto Jenner, quindi Maciacchini, eccetera. Mi capito. Mi capito, mi capito. E... E... E' la vittima della strada a Milano, insomma, e quindi si riarebbe il tema sulla sicurezza stradale, allora sceso dall'autobus e... E sembrerebbe... Marley Davidson la preso dentro. Esatto, sembrerebbe che stesse passando davanti alla... non si trovava sulle strisce pedonali e l'Arley ha visto sbucare il pedonale improvviso dietro il bus della 90. Eh vabbè. E' un problema, nel senso... No, no, perché nel senso che qui poi c'è tutta la dinamica appunto, la 90, poi la preferenziale dove passano anche le moto e il fatto di non essere... le fermate sono messe un po', cioè c'è ancora poca sicurezza, soprattutto poca segnaletica, a volte segnaletica c'è, ma a volte magari poi ci sono i lavori, quindi viene cancellata, vengono fatte... E quindi, cioè, effettivamente è complicato poi gestire questo tipo di situazioni. Poi, sempre restando sulle strade, altro blocco, altra protesta dei tassisti, nel giro, la seconda, nel giro di una settimana, in piazza Luigi di Savoia, lì alla stazione centrale, hanno incrociato le braccia per la seconda volta nel giro di una settimana, appunto contro, intorno alle 18, ieri, contro due aspetti del DL-Asset, che prevede appunto, sostanzialmente nel mirino della categoria, dice il giorno Milano, ci sono due norme in particolare, la prima è il fatto che prevede che i sindaci possano prevedere bandi per l'emissione di nuove licenze fino a un massimo del 20% rispetto a quelle che già esistono, e l'altro passaggio che è indigesto è quello che parla di licenze temporanee per eccezionali flussi turistici, che però sarebbero riservate a chi una licenza l'ha già, dice il giorno Milano. La questione sui tassisti è sempre complicata, però sostanzialmente se ieri avevate bisogno di un taxi intorno alla stazione centrale e intorno alle 18... Oggi invece tranquilli. È difficilissima la questione dei tassisti, secondo me perché poi c'è proprio un peccato originale nella gestione, nell'idea di cosa sono i taxi e di come vengono gestiti e questa storia delle licenze. A Monte c'è un errore, secondo me, proprio un peccato originale che quindi adesso continuiamo a portarci dietro e la gestione... Perché capisco i tassisti che dicono, ma scusa, no, le licenze siamo in troppo, siamo un po'... Nel resto del mondo tu hai milioni di taxi in giro per la città, però effettivamente è un lavoro completamente diverso da fare il tassista a Milano. Però la cultura dei taxi cambia di paese in paese, noi possiamo dire che in Inghilterra lo usano tutti, ma a Milano... Io posso dirti, vedo solamente una fascia ultra borghese e turisti. Questo è il problema, va bene così, lasciamo che sia così o possiamo sperare in cambiare una cultura? Cambiare una cultura non è una cosa facile. I tassista anche in sé, se tu immagini l'immagine del tassista milanese o l'immagine del tassista new yorkese, proprio sono due immagini completamente diverse, proprio anche come essere umano, non so come dire. Però, cioè, appunto, le questioni sono quelle. Alla fine, chi sentiamo denunciare le cose dei tassisti, sai, la roba del post, tanto per fare un esempio, giornalisti, gente che li devo usare per lavoro che avrà sicuramente un imborso spese, cioè, sono elitari, sostanzialmente. Diciamoci la verità, ma quelli che abitano nelle case popolari di Giambellino, ma faccio un esempio, eh, ma che gli frega di stare a me i tassisti adesso. E poi c'è il discorso, non voglio fare il solito vecchio, se sono giovane, facciamo fare il vecchio? Cioè, ci sono nuove applicazioni, nuove modalità di condividere il proprio passaggio, che è sicuramente. Ricordiamo che Uber, però, in Italia, se vado da Milano, non prende non prende piede. Quello dove tu sei il tassista di te stesso, quella roba lì. Ma sai che, piccola roba che si lega anche alla questione della sicurezza, io sento delle mie amiche dire che sono più tranquilla salire su Uber che sul taxi. Ma te dimmi, perché poi, in realtà? Perché ci sono le recensioni su Uber. Hai capito, ma il tassista è un professionista, è lì. Eh, anche io pensavo questa cosa. Non è mai successo niente. No, no, però c'è la questione delle recensioni, che anche quello è indice di come stiamo vivendo. Sì, infatti, è bravissimo, cioè ci fidiamo più di una recensione piuttosto che di un attestato, di una licenza, di un patentino e di una regolare licenza, appunto, di un tassista. E non di mettere una foto sull'app. E vabbè, questo è quello che succede, ma vabbè, ne siamo, ne siamo consci. Continuiamo con un po' di canzoni, un salto nel passato, Anna Oxa. 1978, Anna Oxa, un'emozione da poco, e vabbè, qualcosa di emozionante, appunto, anzi, un'emozione da molto, non da poco, questa canzone. Davvero, davvero emozionante. Masieri, cosa abbiamo di buono o di interessante nei giornali di oggi? Altra notizia sulle testate dei giornali giornalistiche locali, città studi, ecco il nuovo campus della statale, dieci padiglioni, passerelle pedonali e tanto, tanto, tanto verde. A città studi? Sì, praticamente, è partito il cantiere ieri in via Celoria, sempre il giorno Milano. Non devono spostarsi a mind questi, vabbè, non si capisce. Partito il cantiere in via Celoria, il primo blocco sarà completato nel 2025, sostanzialmente sarà dedicato a beni culturali. Cosa vuol dire? Vuol dire che la via Noto, quella zona tanto bisfrattata, notamente, io da studente ai tempi di via Noto non capisco tutto questo astio nei confronti. L'unico problema è il tram, però tolto quello verrà dismessa quella zona lì e si trasferirà tutto in città studi, poi approfondiremo per bene, bene, cioè per bene, sostanzialmente le varie cose, ma adesso... In via Celoria, quindi in via Celoria, quindi in Politecnico, quindi rimangono lì, e parti invece dovrebbe andare a mind, comunque, va bene, non si capisce mai bene come funziona sta cosa. Abbiamo parlato invece qualche giorno fa del Belvedere Silvio Berlusconi, Del Belvedere Silvio Berlusconi, sì, nel discorso è stato intitolato il 39esimo piano di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi, l'ex Cavaliere. Ok. E chiaramente per sapere qualcosa di più chi potevamo chiamare, se non chi era Presidente all'inaugurazione è sostanzialmente il titolare di quel palazzo lì. Ah, il Presidente Fontana, il Presidente della Regione Lombardia. Il Presidente di Regione Lombardia, Azzilio Fontana. Ok. L'hai chiamato? Abbiamo provato a chiamare un presunto, un presunto segretario di Fontana, e adesso capiamo, capiamo cosa ci ha detto. Va bene, proviamo. Aspicia Unatel, Tasse 3 a Culegas con la Regione Lombardia. You waiting to be connected to Regione Lombardia. Aspicia Unatel, Tasse 3 a Culegas con la Regione Lombardia. Ciondo, Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia. No, basta, basta, Mimmo Balducci, sempre lei, basta. Si vada a fare una vacanza, sono Masieri di Good One in Milano, ormai ci conosciamo. Buongiorno Masieri, come sta? Buongiorno Masieri, sempre, sempre Masieri. Minchia, Lorenzo Masini, è uno dei miei preferiti comunque, lo posso dire, quando cantava, bravissimo, bravissimo. Guarda, io tra poco gliela canto veramente la canzone. La cantava, quando cantava quella bella, la piccola di Kiki. No, no, quello è zucchero. Ah, non è Masini? No, non è Masini, e comunque non è... Masieri, ma che minchia ha fatto una vita su, niente? Allora, Balduccio, arriviamo subito al sodo, per favore. Ma mi dica. Mimmo Balduccio, Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia e Attilio Fontana, mi dica. Riusciamo a parlare, almeno oggi, per favore, con il Presidente Attilio Fontana, visto... Aspetti, aspetti, aspetti. Visto che è uscita una notizia che sostanzialmente si vuole intitolare il belvedere di Palazzo Lombardia al Presidente, all'ex Presidente Silvio Berlusconi. Ha sentito? E la porta si è chiusa, appena uscito il Presidente. No, Balduccio. È andata lunga. Balduccio, dai. È andata lunga, con tutta questa presentazione inutile, no? È inutile, è una notizia. È uscito, è uscito, mi spiace. Mimmo Balduccio, Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, il Presidente è appena uscito. Balduccio, io non ci provo nemmeno perché io so che lei... Però le posso dire che il Presidente ha deleghiato il Presidente, il Presidente delegato del presente, Mimmo Balduccio, a rappresentare, quindi posso rappresentare il Presidente. Balduccio, io non ci provo nemmeno a chiedere. Mi dica che cosa vuole. Allora, mi dica il suo parere. intitolare il Belvedere di Palazzo Lombardia a Silvio Berlusconi. Mi dica la sua, visto che non possiamo parlare col Presidente. Finalmente! 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 Un giusto riconoscimento a un grande milanese, a un grande italiano, a un grande Presidente. Esatto, ma se questo è il suo parere... No, va bene, no, non va bene. Non glielo devo dire se va bene. Dipende da lei, di avere il suo pensiero. Però devo dire che il Presidente è stato operatissimo questa settimana a scegliere il nome a cui dedicare il Belvedere. E beh, c'erano in lizza altri concorrenti. Eh, sì, ma che tutti vengono, no? C'era uno che veniva, no? E' mio cugino, è stato bravo. Ma che cosa devo dire? Che minchia fu il suo cugino? Se lo tengo a casa, gli nomini... La sala! C'è un giardino, bravo! Balduccio, bravo! Ma non siamo d'accordo. Ma non siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo. Balduccio, bravo! No, comunque, comunque... C'era una lista di candidate. C'era una lista di candidate. Allora, il primo era Gianfranco D'Angelo, ma... Ha saputo la notizia? Ha saputo la notizia? Sì, è la stessa che penso, sì, ma già diverso tempo fa. Cologno Monzese ce l'ha rubata. Cologno Monzese ce l'ha rubata, ci hanno fatto piazza, ma sembra... Sì, ci hanno letto qualcosa, è vero. Allora avevamo un'altra triade di nomi. Maria Giovanna Elmi. Sì. Cirino Pomicino. Cirino Pomicino che, ricordiamo, è ancora vivo, è ancora vivo e vegeto. Ah, ecco perché forse non l'ho prodotto. Cicciglassia. Cicciglassia, certo. Enrico Beruschi. Che anche lui è ancora vivo, se non sbaglio. Sì, però l'abbiamo visto, non è che sta proprio... No, 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 sarà benissimo, sarà benissimo. E infine c'era, in questo trittico, c'era anche Pippo Franco. Pippo Franco, anche lui, sta benissimo. Però, però, però... Mancato assessore alla cultura, come è di Roma. Allora, era un po' triste. Cioè, l'abbiamo visto, ma... No, mio, Pippo, che c'è? Eh, sono triste, non me l'ho fatto fare un assessore... Non credo parli così, Pippo Franco. Pippo Franco ha detto... Allora ha detto, presidente, Pippo Franco è triste, facciamole un belvedere. Ma non possiamo fare un belvedere a una persona ancora viva? No, Masini, se lo faccia là... Allora, Presidente, facciamo un malvedere, perché questo crea così, Lorenzo Masini, va bene? Così lo facciamo contento. Il giornalaio di turno, che è arrivato, mi è arrivato il giornalaio, bravo! No, Balduccio, per favore. Mi è, Balduccio, sono io. Io, lei, non la faccio più parlare con il Presidente. Guardi, le volevo fare parlare con il Presidente. Ma non mi sembra, guardi. Ma non la faccio parlare. Siamo arrivati a un mese che io chiamo e non riesco a parlare con il Presidente. Devo parlare per forza con lei. Sa come si chiama? Sfortuna. Sfortuna. Hai sfortunato. Celebration, celebration, cool and the gang. 8.08, ben ritornati qui a Good Morning Milano su Cristal Radio e... Milano, all news, seconda ora del morning show di Cristal Radio. Seconda ora del morning show di Milano. Di Milano, beh... prendo proprio questa cosa. L'asso piglia tutto, basta. Ricordiamo che ci potete scrivere quello che volete, se volete anche insultarci, oltre che dire buongiorno. Il numero è 331-78-5355-5. e siamo in attesa dell'ospite di giornata che, come sapete, martedì per noi di Good Morning Milano è il giorno di Walter Cherubini, Presidente Consulta Periferie Milano. Ma dopo la prima ora di rassegna stampa, qualcosa è rimasto ancora. Ok, allora andiamo a scattabellare nel paginetto in cui hai messo i post-it, no? Messo i post-it perché è una roba molto seria, una roba molto seria che sicuramente susciterà delle... Reazioni. Delle reazioni, delle reazioni, secondo me anche delle polemiche. Da gennaio... Sì, ma solo per il nostro sindaco, secondo me. Perché da gennaio... Mi aspetto già i post di qualcuno. Da gennaio 2024 scatterà l'aumento dello stipendio per sindaci, per i sindaci. Scano, condividete, gente, condividete! Allora, adesso dire questo... Tanto la gente pensa, la maggior parte della gente purtroppo pensa che tutti i politici a tutti i gradi abbiano lo stipendio di senatori e deputati. Cosa che non è. E comunque ha una sua logica il fatto che rappresentanti dello Stato e dei cittadini debbano avere un compenso uguali alle responsabilità che hanno. Il problema è le responsabilità. In questo caso quanto è questo aumento? E perché appunto dici è giusto adeguarlo alle responsabilità che hanno? Allora, innanzitutto non è un aumento che ha a che fare con meriti o robe del genere, chi sta simpatico, chi sta antipatico. È un aumento che ha a che fare con il numero della popolazione, del comune, in che loro amministrano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un sindaco metropolitano, un sindaco come appunto Beppe Sala, un sindaco di una grande città di sostanzialmente, come si dice... Un milione e quattrocentomila abitanti che sono a Milano ad esempio. Ha delle responsabilità, si trova di fronte a delle responsabilità che è uno stipendio, che è un quinto, no adesso dico un quinto, Lui più volte ha detto che da manager guadagnava molto molto di più. Quanto prende attualmente il sindaco più o meno? Attualmente intorno ai 6-7 mila euro. Ok, netti lordi. Lordi, lordi. Ah, lordi? Come lordi? Lordi. Con, adesso diamo un po' di numeri. Un po' più di 4 mila euro netti forse neanche. Da gennaio 24 i sindaci metropolitani arriveranno a 13 mila ottocento euro lordi. Lordi. 6 mila ottocento euro in più rispetto ad adesso. Ok. Sindaci metropolitani. Di cui 4 mila sono di tasse più o meno. Sindaci metropolitani. In Lombardia solo 15 sindaci avranno l'aumento dello stipendio perché l'aumento scatta sopra i 50 mila abitanti. Ok, vabbè, quindi ad esempio, non so, Settimo Milanese, Cesano Boscone, Baranzate, così non vengono toccati. E continueranno a prendere quello stipendio da fame che continuano a prendere. Esatto. Da fame no, ma insomma, un piccolo comune rischi veramente di prendere un stipendio da fame. Nonostante, come dici tu giustamente, le responsabilità che hanno. I problemi sono le responsabilità. Poi 3 mila euro se li sognano tutti, chiaro. Ovvio. Però sei tot persone. I 3 mila euro che danno a me per stare qui alla radio a parlare è ovvio che tutti se li sognano. E invece se avessi la responsabilità di tutta una città davanti, capisco che insomma... È un altro discorso. Niente, Crystal Radio mi spiace non assume in questo momento perché tutti i soldi li spende per me, quindi mi spiace. Però ringrazio anzi di sponsor che copiosi mettono nelle casse della radio. Grazie mille. Io vi anticipo, barra, come dicono i giovani, predicto. I giovani dicono così? I giovani dicono predicto. Harry Potter. Predicto. Che a gennaio 24 ci sarà il titolone di... Dillo, 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 titolo di chi? Non si dice, non si dice. Di giornali singolari. Di giornali che si sentono abbastanza liberi? Si sentono liberi, vabbè, sostanzialmente, titoloni, sala, avrà il suo stipendio, è raddoppiato. Si alza lo stipendio, anzi. Vabbè, ma non solo, ma in realtà anche adesso sui giornali non schierati comunque i titoli non è che sono tanto distanti. Infatti sta di fatto che davvero essere sindaco di una grande città comporta delle responsabilità pazzesche, anche a livello proprio giuridico e personale. E quindi ti dico, tra tutto quello che succede in questo momento nel bel paese, forse dare qualche soldo in più ai sindaci. Io mi pare sempre stato di questa idea. Sindaci, consiglieri comunali, ma anche consiglieri di municipio così, secondo me devono essere pagati e anche abbastanza bene perché facciano bene il loro impegno. Poi ci sono delle storture, secondo me, all'interno di questa piramide che ci porta fino al Presidente della Repubblica, che ad esempio sono le regioni. I consiglieri regionali, secondo me, qualche soldino di troppo lo prendono, però vabbè, semmai andiamo poi ad approfondire la questione, ma potremmo chiamare qualche consiglieri regionale di di sé, ma non pensa di prendere troppo. Qualcuno che ci dice quanto lo prende, poi è pubblico quanto prendono. E questo era Gaemon, mondo perfetto. Salutiamo Gaemon, vicino di casa il mio amico Demo. Sì, abitano sul penerottolo, sì. Abitano sul penerottolo, quindi salutiamo anche il mio grande amico Francesco De Molfetta, grande artista contemporaneo che trovate a Milano. Cercatelo, è Demo, si chiama, bravissimo. Davvero grandi opere, ludiche opere di Francesco De Molfetta, che salutiamo vicino di casa di Gaemon. Vedi come si ribalta la situazione in base, perché c'è poco da fare, siamo così egoriferiti che il tutto intorno a te, ti ricordi il famoso, l'Omnitel si chiamava all'epoca, quindi si poteva denominare, che diceva è tutto intorno a te, diceva Megan Gaetz, diceva è tutto intorno a te. Mi ricordava una banca. No, la banca faceva il cerchio, ma non diceva tutto intorno a te, senza tutto secondo me. Infatti una cosa è già vera, poi comunque intorno a te è medio... Ops, l'ho detto, scusa. Mediobank, no, c'è anche quella su Mediopadana, la stazione quella che c'è a Piacenza, va bene. Comunque il tutto intorno a te, sì, ma il concetto del tutto intorno a te è nostro, proprio del periodo che viviamo, perché è egoriferito, noi siamo sempre egoriferiti, quindi in questo caso appunto, per me il centro del mio mondo è il mio amico Demo, e quindi l'artista famoso diventa il vicino di casa del mio amico Demo, capisci? È così, è così, è così, così. Parlavamo dei sindaci che appunto vedranno, in realtà solo 15 sindaci di Lombardia, vedranno alzarsi il proprio stipendio, e una riflessione che facevi, Lorenzo, era anche sul fatto di dire se noi non li paghiamo bene, soprattutto i sindaci di una certa entità, rischiamo, quello che è successo anche in ultime elezioni, rischiamo anche di non trovare i sindaci, giusto? Molti, come si diceva fuori onda, molti comuni, piccoli, perché il 70%, sempre nello stesso articolo, il 70% degli amministratori locali governa paesi sotto i 5.000 abitanti. 5.000? Il 70%, è chiaro che, pensate che il sindaco di Milano prenderà da gennaio 14.000 euro lordi, chissà il piccolo sindaco cosa prende, io non lo so, ma non credo che gli basti per vivere, e chi glielo fa fare, chi glielo fa fare di avere così tanta responsabilità. Comunque poi, io penso per questa roba, puoi finire davanti a un tribunale, se sei sindaco, ne vale la pena. Sai che i sindaci firman anche i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, sai che responsabilità è per prenderti e dire ok, quella persona va portata in ospedale contro la sua volontà, ad esempio, firmano gli affidi, firmano gli affidamenti temporanei dei minori, ad esempio. Non so, anche se anche nei comuni sotto i 5.000 abitanti, quello non lo so, magari ci sono. Cosa? Sì, sì, sì. Ti confermo perché hai parlato con il sindaco di Stato milanese, ad esempio, che ha avuto una situazione del genere, ma no, no, proprio così, sono situazioni davvero, davvero forti, di grande responsabilità che non viene, secondo me, giustamente remunerata. Perché poi, qual è il problema? È vero che non è che si fa tutto per i soldi, però se io ho un'azienda e faccio un imprenditore e un partito di riferimento al cui io tanto voglio bene mi chiede di fare il sindaco, io metto sullo bilancio dicendo scusate, a me devo lasciare la fabbrichetta, non posso continuare a fare l'imprenditore, ho bisogno che mi pagate. Ma poi c'è sempre una questione del rendimento, comunque. No, infatti, infatti, insomma, è complicata come questa, quindi direi che quel qualunquismo intorno al ah, no, la politica non va fatta per professione, ah, no, la politica non va pagata così, secondo me, lascia un po' il tempo che trova al momento. La chiudiamo così, i sindaci hanno molto più responsabilità rispetto a quelle persone che in realtà poi fanno partire, fanno scattare nell'immaginario collettivo il politico strapagato, quindi stiamo parlando di senatori, deputati, e amministrazione. Sì, perché adesso, con tutto il lavoro che fa un deputato, che insomma, io non so se lo farei, l'ho riposto. No, no, però, oggi c'è la ministra in Roma, avanti e indietro, però sei, diciamo, dentro questo grande macchinone di 400 e passa persone, in cui, insomma, è brutto dirlo, ma puoi anche, puoi anche nasconderti. Puoi anche, diciamo, eludere le tue responsabilità se vuoi e nessuno ti dice niente, o meglio, poi saranno gli elettori a decidere. Il sindaco non può eludere assolutamente niente, cioè la sua responsabilità, così, in faccia, gli viene splatellata. Comunque, diteci cosa ne pensate, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, abbiamo scoperto di essere il partito di difesa dei sindaci in questo momento. Io e Masieri difendiamo i sindaci, vogliamo bene i sindaci, perché sono un'importante istituzione che insomma bisogna difendere anche degli attacchi inutili, degli attacchi del qualunquismo. Continuiamo con la musica, adesso è Negravaro insieme a Fabi Fibra con Affino al giorno nuovo. The Blessed Madonna, merci, fiturigiano Jacob Lask, bentornati, bentornati, 8 e 32 minuti, eccoci qui sempre su Crystal Radio, FM 96.2, Dub Plus e anche il sito internet e l'app per iOS Android e anche, anche ovviamente su Milano News dove ci state guardando in questo istante. Ben ritrovati, bentornati a Good Morning Milano. Sono le 8 e 33 minuti in questo istante. Ultimo blocco della nostra trasmissione, ultima mezz'ora della nostra trasmissione e è la mezz'ora dell'ospite. Come sapete benissimo e come sapete altrettanto bene se ci seguite il martedì è il momento di Walter Cherubini, Presidente Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno Walter, scusate, non ti avevo aperto il microfono, dicevi? Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Colpa mia, colpa mia, non avevo aperto il microfono, scusatemi. Chiedo Venia o chiediamo anche ad Avenia magari di venire in ospite. Mamma mia, questa era bruttissima. Oggi siamo stanchi Walter, te lo dico, non so perché, anche nonostante sia solo martedì e non lunedì, che uno dice lunedì di solito il giorno, siamo un po' in bambini. Sarà quest'ottobre caldo. Vero? Ecco, l'Octoberfest. Saremo un pochettino meteopatici. Può essere. Più di un pochettino. Può essere, può essere, può essere. caldo è invece sempre, e per fortuna che lo è, il tema delle periferie, perché insomma, qui tutti che ne parlano, tutti che fanno grandi progetti, ma poi ci si ne dimentica spessissimo e invece noi cerchiamo di non dimenticarceli grazie appunto alla consulta periferia in Milano. Quali sono un po' diciamo i temi caldi appunto sulla periferia milanese o appunto sulla periferia in questo momento da continuare a battere, diciamo? Sì, diciamo che i temi della periferia ci sono sempre il problema e come affrontarli. Allora, un'iniziativa sicuramente interessante in proposito è la quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane che si svolgerà il prossimo venerdì a partire dalle ore 10 nelle sedi di Bergamo e Brescia promossa da Fondazione Bracco. Quarta conferenza nazionale che è il seguito della conferenza nazionale che si svolse a Milano la prima conferenza dopodiché a Palermo successivamente a Genova e adesso alle capitali della cultura Bergamo-Brescia in questa occasione. Che cosa ti auspichi che possa venire fuori da questo convegno da questo momento importante? Uno sguardo diverso sull'approccio del tema delle periferie cioè noi le guardiamo sempre in termini di problema giusto sì e alla fine cosa succede? Che rincorriamo i problemi i problemi sono all'incirca sempre più veloci di noi e quindi non vengono mai raggiunti. Siamo una corsa all'emergenza che però ti percebe. Questo è il dato vero e anche nel clima sociale complessivo delle grandi città ma non solo c'è proprio uno sfrangiamento e anche un rigurgito di violenza molto veramente preoccupante da un certo punto di vista. Non che 40 anni fa non ci fossero dei rigurgiti di violenza però questo non è che ci possa consolare. Ah beh giusto. Allora c'è un tema esattamente strutturale che vuol dire il governo del territorio e se noi riprendiamo il tema delle periferie inteso le periferie urbane e quindi quello delle grandi città di una metropoli seppur piccola per esempio come Milano noi abbiamo ma lo vediamo anche con i fatti turistici cioè c'è un addensamento nel centro in quello che è il 10% del territorio dopodiché la rimanente parte del territorio rimane un pochettino pressapochista sì c'è qualcosa in più ma non conviene e non c'è un elemento di governo che si occupi prioritariamente di periferie cioè c'è un elemento per esempio a Milano che si occupa prioritariamente di turismo ed è una cosa sicuramente da fare e quindi vengono anche investiti milioni di euro in comunicazione in conoscenza sul territorio della periferia rasentiamo lo zero cioè stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro ecco questo è il tema e c'è un problema strutturale cioè quello di che non si conosce nemmeno come la periferia e quindi emergono o la casistica della cronaca nera c'è il boschetto della droga di Rogoredo oppure siccome a Milano c'è di tutto di più non è che non ci sia il positivo anzi ce n'è a bizzeffe e allora a seconda dei periodi magari estivi anche i giornali cominciano a parlare un po' di quegli aspetti ludici bucolici allora c'è il borgo tal dei tali piuttosto che ecco ma questo qui è lasciato proprio è un po' un effetto della narrazione invece noi dobbiamo affrontare anche un'altra cosa molto spesso che so Valtre che a te poti far venire la trebisonda perché spesso parlano di quando si porta in periferia qualcosa portiamo la cultura in periferia portiamo appunto ma anche semplicemente l'animazione in periferia portiamo la vita in periferia sembra quasi che vengono a liberarle con il defibrillatore quando invece tu ci insegni e sul sito di periferia sul sito della consulta si può trovare tanto di questo le periferie sono più che vive o sbaglio su questo non c'è alcun dubbio il problema è che non sono governate cioè sono tutti fatti a sé frastagliati e chiaramente rispetto al centro della città che è molto più strutturato ed anche molto più seguito nell'ordine delle cose non è un problema di ricchi poveri questo e quest'altro purtroppo c'è una mentalità ma anche nell'amministrazione spesso che è centrocentrica invece i residenti non sono nel centro sono esattamente da tutt'altra parte e la stragrande maggioranza oltre il 60% vivono esattamente nel territorio periferico allora se per esempio l'amministrazione comunale è un'amministrazione che si vuole interessare di tutta quanta la città e deve partire da lì non arrivare lì che è proprio un paradigma diverso da dove parti a vedere la città parto da piazza Duomo e scendo è chiaro che piazza Duomo e scendo e siccome il centro è piccolissimo da un certo punto di vista fai anche la svelta dopodiché quando cominci ad andare in periferia che ricordiamolo la periferia è la città che sarà o non sarà non perché lo dico io l'ha detto tra gli altri Renzo Piano che forse ha una dimestichezza maggiore in termini urbanistici divisione mondiale eccetera noi ci occupiamo delle periferie di Milano ogni tanto con qualche variante anche europea significativa dobbiamo dire per quella realtà piccola che siamo noi sicuramente è uno che ha cercato ci ha messo anche il suo stipendio da senatore e quindi la periferia ma è chiaro che la periferia allora deve diventare un elemento centrale non un elemento di riferimento per dire ecco ci sono le periferie non funzionano come si fa a farle funzionare per farle funzionare ci vuole esattamente una struttura organizzata amministrativa una volta che le vecchie le periferie sono i vecchi comuni che furono aggregati cento anni fa allora avevano un sindaco avevano un'amministrazione qual era la loro priorità quel posto lì la periferia era la priorità come è strutturata l'amministrazione comunale tanto per rimanere sull'amministrazione comunale ma non è l'unica cosa l'amministrazione comunale è strutturata che sta a Palazzo Marino in centro e quindi guarda prioritariamente quello che è il centro ebbene e allora ne ripariamo fa pochissimo sempre qui con Baltacarubini di Consulta periferie Milano Alan Sorrenti figli delle stelle 1977 oggi a Nox Alan Sorrenti eh sì sì oggi mi sono un attimo così ma abbiamo pezzi storici della musica italiana che avevano sempre ascoltati e sempre qui su Crystal Radio con Walter Corubini stiamo parlando appunto di periferie so che avevi una domanda Lorenzo stiamo parlando di periferie e fuori onda stiamo parlando anche di Olimpiadi perché è notizia di oggi ma poi ne parleremo in maniera più approfondita domani che ci sono addirittura siamo in anticipo siamo in anticipo addirittura su alcuni lavori al villaggio olimpico e questa occasione delle Olimpiadi come la si può vedere in ottica appunto di rilancio delle periferie cioè le periferie possono trarre qualche tipo di spunto dall'attenzione che ci sarà durante le Olimpiadi durante i giochi invernali ma può essere sicuramente un'occasione per focalizzare il tema delle infrastrutture dedicate alla pratica sportiva ok perché ci sono le Olimpiadi avranno una loro strada particolare che sono delle Olimpiadi della neve eccetera con cortina noi possiamo vedere questa vicenda come si può riflettere su una visione dello sport a Milano la visione delle infrastrutture perché poi si parla sempre dello sport di base ecco come si fa a assicurare che lo sport di base possa essere praticato anche in una maniera diciamo così agonistica il taglio che vorrei sottolineare è quello noi abbiamo tra società dedicate alla pallavolo e alla pallacanestro circa 90 società circa 90 società che hanno le loro sedi e praticano i loro punti di riferimento nel territorio periferico anche perché è difficile avere delle infrastrutture in centro e sono dislocate un po' nelle periferie però sono tutte quindi stiamo parlando di 15.000 giovani atleti non stiamo parlando della serie A cose di questo genere stiamo parlando di giovani che vanno dai 12 13 17 anni che però fanno agonistica hanno bisogno anche di strutture adeguate allora per esempio il comune di Milano si è posto nell'ottica di utilizzare le palestre non solamente per le scuole le palestre scolastiche non solamente per le scuole ma anche per la cittadinanza si stanno costruendo nuove scuole a Milano ne sono state costruite almeno una decina e un altro buon numero verranno costruite in sostituzione di altre e alla scuola si affianca anche la costruzione della palestra ma questa palestra è una palestra che poi può diventare anche un piccolo impianto sportivo oppure no allora c'è un piccolo problema diciamo così burocratico di misure di misure dei campi nel senso che i volumi delle palestre siano molto ampi dopodiché quello che è dedicato allo spazio di gioco è normalmente diciamo così fa riferimento all'utilizzo ludico scolastico cosa vuol dire che magari per un metro per un soffitto più basso di 30 centimetri su un'altezza di 7-8 metri quindi stiamo parlando proprio di inezie ma siccome non si ha l'idea che quelle scuole quelle palestre possono essere utilizzate anche dall'agonismo quindi da questi 15 mila giovani atleti tra l'altro la pallavolo i due terzi è praticata da ragazze teniamo anche in considerazione questo noi ci mangiamo la possibilità di avere dei piccoli impianti sportivi fruibili ecco che allora una regia che abbia sicuramente dei riferimenti locali per capire ma la scuola dove si fa dove non si fa ma questo c'è già in progettazione ci vuole esattamente questa visione sistemica in maniera tale che faccio una cosa ma può servire anche a quell'altro questo è il problema superare la frammentazione la settorialità la competenza è giusto avere una competenza ma deve essere anche vista all'interno di un sistema altrimenti io faccio la mia cosa poi serve o non serve ma non lo sappiamo ecco allora questo è il tema le palestre devono essere costruite e basta rispettare alcuni piccoli accorgimenti dal punto di vista dei volumi delle grandezze proprio in vista dell'utilizzo che potranno farne tutti questi per esempio è solamente una ricordo uno speciale che mi invitò a recuperare di focus periferie se non sbaglio al centro pavesi con la PIPAV in cui si parlava proprio di questo circa un annetto fa però siamo quasi in conclusione ma so che c'è un importante evento che è il Foto Festival che per fortuna potrebbe animare e può animare le periferie della nostra città giusto? Allora il diciottesimo Foto Festival è un'iniziativa diciamo creativa e anche di immagine si sviluppa fino al 31 di ottobre ci sono 100 luoghi anche fuori Milano ma sono costellati Milano e quindi vi invitiamo ad andare a vedere sul sito del Foto Festival tutti i luoghi che ci sono perché sicuramente è un modo di apprezzare il valore di tantissimi fotografi ma che fotografano anche molto spesso la realtà quindi è un'occasione un po' per fare un piccolo bagno di realtà ecco nello stesso tempo di valorizzare questo tipo di possibilità di espressione altrimenti rimaniamo un pochettino nell'anonimato ma soprattutto non utilizziamo delle opportunità che ci sono il problema della città e anche di noi milanesi è quello di conoscere innanzitutto quelle che sono le opportunità e su questo il comune ha un importantissimo ruolo di promozione di quello che avviene nelle periferie di milano grazie mille allora ci ritroviamo martedì prossimo sempre con la consulta periferie milano ricordiamo il sito periferiemilano.com interessante anche invece il sito periferie artmi dove troviamo tutto quello che è esattamente nel prossimo 20-22 di ottobre ci sarà la giornata periferie artmi verso diciamo così il 17-18 potrete vedere anche sul sito periferie artmi esattamente perfetto allora grazie mille davvero a Walter Cherubini lo ritroviamo qui martedì prossimo noi continuiamo con un po' di musica e poi ci salutiamo e fra poco ok? a fra poco allora grazie mille grazie mille